L'imminente chiusura per il riammodernamento della Galleria della Limina dovrebbe avvenire a fine mese, lungo la strada di grande comunicazione che unisce il versante tirrenico a quello ionico, già sta creando allerta per i possibili disagi agli automobilisti, ma soprattutto sta creando agitazione per i percorsi alternativi. Due sono le vie per arrivare sulla ionica dal tirreno e viceversa. La strada provinciale 1 che passa da Cittanova, tocca lo Zomor e arriva all'Ocri e la SP5 che unisce Cinque Frondi a Mammola e proprio su quest'ultima strada che rivolge le attenzioni il consigliere provinciale Giuseppe Longo, nonché amministratore a Cinque Frondi che sostiene. Prima che partano i lavori di ammodernamento della Galleria lungo la strada di grande comunicazione Ionio Tirreno, dice Longo, pretendiamo da parte dell'ANAS gli adeguati interventi migliorativi della strada provinciale 5 che rappresenta un'alternativa stradale per raggiungere le due fasce del territorio reggino. Non dimentichiamo infatti i disagi che l'ANAS ha già creato allorquando ha programmato i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Rosarno, rimasti in parte incompiuti almeno per quanto riguarda l'illuminazione nonostante gli impegni e le rassicurazioni date al territorio e dai vertici dell'azienda. In quell'occasione ricorda Longo anche prima che iniziassero i lavori si era tenuta una conferenza dei servizi alla presenza dei dirigenti dell'ANAS e della provincia per provvedere a individuare un percorso alternativo atto ad alleviare i disagi dei cittadini per l'intero arco di tempo necessario e a completarli. Purtroppo l'ANAS quegli accordi non li ha in buona parte rispettate nonostante i tanti solleciti attraverso i quali la provincia evidenzia all'ANAS il mancato rispetto delle prescrizioni concordate nella conferenza dei servizi. Da qui la richiesta di un tavolo tecnico urgente in prefettura per concordare gli interventi propedeutici da effettuare immancabilmente prima della chiusura della galleria. In quanto la strada provinciale 5 necessita di adeguamenti per garantire nella massima sicurezza un flusso di mezzi continuo anche nel caso in cui i lavori si dovessero svolgere in orario notturno.